Salve a tutti da GTA Guidesita Ieri ho fatto un commento e una recensione su una missione mai giocata e oggi farò lo stesso Ieri era inglese e oggi è spagnola Ho un brutto presentimento Mi sa che questa volta la missione non sarà bella come quella di ieri Già il titolo mi fa venire una cacarella di quelle pazzesche Morte del Lazca Non ho la più pallida idea di cosa significa Morte dei qualcosa Vabbè proviamola Allora Vediamo A quanto pare siamo un membro dell'FBI Già le macchine tutte nere Tutte nere sono simbolo di Diciamo Cose fatte un po' cazzo Però Sigue con il patrullero 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 Cazzo è Vabbè Andiamo avanti Finora È fatta un po' cazzo Cioè non mi sembra niente speciale Ma vediamo Ma vediamo Vediamo come è questa missione Spero non mi deluda Anche se L'impressione iniziale Rivela nulla di buono Nulla Oddio 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 Non mi ha tolto le stelline Cazzo È una delle regole iniziali per fare una buona missione Togliere Quelle cazzo Di stelline Lui Che cazzo significa Però vado al checkpoint Oddio Oddio Ora devo stare con 5 stelle Per fare il video Palle Ragazzi Pregolamente Delle due palle Questi cazzo Di sviluppo Ora vediamo Che cazzo Dice di fare Cioè ma Finora non ho fatto un cazzo Sono seguito Dei checkpoint Grave Che cazzo Devo fare È possibile Che in una missione Mette solo Di checkpoint O è proprio Alle prime armi O fa veramente cagare A fare missione Oddio Alleluide C'è qualcuno che spara Però ora Con 5 stelle La vedo un po' dure Sparare Get to the next Checkpoint Ecco Si poteva almeno Degnare di mettere Ma Ecco Mi mancava solo Questo Mi mancava solo La macchina Di vedere il suolo Giuro che mi mancava Solo Questo Oddio La missione è finita Non ci credo Non ci credo Cosa Ragazzi Questa missione È Pessima Oddio Quanto è brutta Mamma mia Mi lamento per gli italiani Ma A quanto pare Gli spagnoli Non sono da meno Cazzo Mi sa che Oddio Forse questa Era la prima Arme Spero proprio Di sì Perché se no Devo dire che la missione È fatta abbastanza Cazzo Intanto c'è un Non so che cazzo È Un bug Della mod Beh Non importa Oddio Veramente Pietosa Vabbè Domani vi farò vedere Una missione italiana Spero che non sia Come questa Perché se no Lasciamo stare Spero che il video Vi sia piaciuto Ci vediamo alla prossima